Vedi che non ha mangiato fino a ieri pomeriggio stava bene, ha mangiato e pomeriggio si è ritirato nella stanza. La sera ancora ha mangiato il metacamp. Io non l'ho visto zoppicare per niente, però con la bocca, vedi che c'è di nuovo. Le pasticche l'ha presa sicuramente? Solo oggi no. Sennò gli altri giorni l'ha presa? Tre giorni l'ha presa e oggi no. E non sapevo se invece dovevo mettere l'iniezione o no. Quello mattina vediamo, riguardo, ecco non trovo il tempo e facciamo una radiografia anche dell'osso qua. Sì. Strano che era migliorato senza mortisone poi. Era parecchio migliorato, veniva a stare sulla mia scrivania e anche lì mannaggia. Vedi il profilo? È gonfio? È gonfio, il naso? Sì. Eh sì, lo vedo. Quindi vuol dire che... Sì, questa parte destra non era così. Che vuol dire che... un attimo, ma potrebbe essere una forma pulare. Eh, e poi niente da fare, no? È difficile. Sì. Ma c'ha dolore adesso? C'ha dolore un po', sì. 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 Ok.